eccoci qui ragazzi ben ritrovati buon giovedì ci avviciniamo insomma domenica all'esordio di giuric stiamo attraversando questa settimana veramente veramente problematica per noi tifosi veramente dura da digerire e ieri ieri poi è scoppiata la contestazione a trigoria e devo dire tra parentesi finalmente finalmente i tifosi della roma si sono attimo svegliati si sono attimi resi conto che non si può da più alibi a sta squadra che gli è stato concesso di tutto e di più come spesso accade a roma i calciatori tirano i remi in barca prima del tempo cominciano a far bello il cattivo tempo forti di una tifoseria che gli sta sempre vicino che non contesta mai anche se negli ultimi tre anni siamo arrivati sesti in campionato e quindi è giusto che anche loro se facciano sentì e ieri a trigoria è scoppiata una bella una bella contestazione e io di questo sono contento perché comunque anche noi tifosi abbiamo il diritto di protestare di criticare lì dove le cose non vanno bene e non vanno bene ragazzi perché comunque la tifoseria merita rispetto cioè la tifosi ha fatto 39 mila abbonamenti quest'estate record che non si vedeva dall'anno dello scudetto quindi pagano gli abbonamenti tv per vedere le partite se comprano le magliette danno soldi alla squadra e quindi meritano rispetto e meritano comunque una squadra che lotti almeno e che onori la maglia cosa che non sta accadendo in queste prime giornate e quindi polveriera sicuramente a trigoria e anche domenica allo stadio secondo me ci sarà una bella contestazione e ci saranno fischi striscioni di questo sono sicuro perché adesso il tempo delle chiacchiere è finito ragazzi il tempo delle chiacchiere tocca fare i fatti e tocca riprendere una stagione che è all'inizio e che abbiamo tutto il tempo di riprendere tornando sulle sonore di De Rossi ragazzi è chiaro che ragionandoci sopra è ovvio che non sia una decisione per i risultati ma è una decisione extra campo lui sicuramente ha avuto grossi problemi con la società con la Soloku con i Fritkin magari con qualche calciatore magari ha gestito male certe situazioni vede quelle di Dybala e di Zaleski e secondo me ha pagato questo ha pagato questi i rapporti che si sono andati deteriorando magari col tempo poi anche i risultati non hanno aiutato l'espulsione di domenica non ha aiutato per cui tutto questo poi ha portato ai Frittkin a prendere una decisione drastica che io trovo assurda trovo assurda ragazzi parliamoci chiaro perché non si possono cambiare tre allenatori in sei mesi cioè tu avevi Murigno l'hai mandato via perché contestavi a lui i risultati contestavi comunque il fatto che andasse troppo contro il sistema a discapito della squadra quando invece tocca farlo perché sennò ci mettono sempre i piedi in testa e l'abbiamo visto con gli alberi in queste prime quattro giornate quelle che ci hanno combinato e l'hai mandato via hai preso De Rossi che doveva essere un traghettatore fino a giugno e invece gli vai a fare tre anni dei contratti a un esordiente senza esperienza con uno stipendio importante qui a Roma dove sai benissimo che le pressioni sono totalmente differenti da altre squadre e poi c'è ragione Totti che alla fine De Rossi ha fatto la fine De Murigno come parafulmine di tutti i problemi della squadra e ieri a Tricoria è scoppiata la contestazione sono stati presi De Mira specialmente Pellegrini e Cristante che però devo dire ragazzi è vero che io vado sempre contro Pellegrini e contro Cristante però non dal punto di vista della professionalità ma dal punto di vista tecnico che è un'altra cosa cioè io non li reputo giocatori che in una Roma debbano giocare titolari perché li reputo giocatori modesti che non ti fanno far salto dei qualità e non ti possono portare in Champions ma dal livello professionale non gli è posto di niente a Cristante e Pellegrini che si allenano sempre che vengono comunque si mettono sempre in gioco comunque se vai a vedere Cristante in questo inizio del campionato non ha fatto male Pellegrini è stato infortunato è chiaro che a Pellegrini si rimprovera adesso l'atteggiamento che ha avuto contro il Genova quando è entrato è chiaro che poi si contesta il capitano e si contescano quei giocatori che sono cinque anni che sono titolari a Roma e che non hanno ottenuto risultati e che sono arrivati sempre quinti, sesti in classifica questo è chiaro questo è chiaro ed è anche giusto dal punto di vista della tiposeria magari contestare sempre nel rispetto però dell'uomo e del calciatore perché altrimenti qui andiamo fuori dalle righe ed è certo non fa bene alla squadra a questo tipo di problemi e adesso tocca riprendere la stagione non ci possiamo permettere più non ci sono più alibi non ci sono più alibi intanto c'è da dire che tutti hanno fatto il post per ingazziare De Rossi tranne Di Bala e quindi questo dà già l'input su come ci siano i rapporti fra lui e De Rossi da quando nella prima giornata dici Di Bala sta fuori per scelta tecnica e fai giocare Zaleschi è chiaro che lì poi alla fine i problemi nascono non so se ve li ha rientregiato Zaleschi sto sentendo voci di questo perché comunque Juric non è De Rossi e magari avrà chiesto alla società di reintegrarlo per valutarlo come giusto che sia e quindi ragazzi questa è la situazione sta proprietà deve imparare a gestire in maniera più professionale sta società bisogna avere all'interno della società gente competente gente che capisce di calcio gente di esperienza è questo che si rimprovera ai frittichini purtroppo non ci capiscono niente dei pallone e lo abbiamo visto e continuano a fare errori su errori non si circondano di figure professionali di esperienza che possono veramente capire come gestire un ambiente come Roma non si può prendere un direttore sportivo sconosciuto come Ghisolfi invece di puntare su gente alla Sabatini alla Corbino alla Pratè alla Marino alla Soiano cioè a noi ci servono questi tipi di direttori sportivi gente dirigenti alla Baldini ragazzi ci serve sta gente qui a Roma non puoi improvvisare e non puoi mettere gente che non capisce le calcio finché sta società non capirà questo io ho paura che andremo sempre peggio e che le cose non si risolveranno qualsiasi tipo di allenatore possa arrivare o giocatori che possano comprare questo è il bandolo della Matassa ragazzi noi siamo stati sempre abituati a grandissime proprietà di Noviola Sensi in parte anche Pallotta fino all'ultimo due anni che ha fatto i danni con Monci e Petraghi gli ultimi due o tre anni cioè però fino al 2017-2018 comunque anche Pallotta investiva le squadre erano forti c'erano dirigenti forti siamo arrivati insieme ai finali dei Champions e dobbiamo tornare a stare su quei livelli e lo fai con dei dirigenti capaci e forti e d'esperienza non certo con Ghisolfi e Solopo ragazzi io la vedo così cioè il problema principale per me è quello è quello è quello ragazzi e finché non ci avremo queste figure così io la vedo veramente dura ottenere risultati diciamo buoni per la stagione vediamo domenica arriva l'Udinese una squadra in forma una squadra prima in classifica che bolla sulle ati dell'entusiasmo che sta bene fisicamente più di noi che ha comunque qualità che viene a Roma con la testa sgombra perché non è che c'ha pretese di che fassi quali risultati vengano a Roma comunque a giocassela e quindi sarebbe opportuno che la squadra reagisca e coglia questa prima partita in campionato intanto ieri sera Juric dopo ha svolto il primo allenamento con la squadra di 17 e poi dopo l'allenamento ha portato a cena tutta la squadra per cementare il gruppo poi domani ragazzi faremo un altro video e parleremo di come potrebbe giocare Juric e di come dovrà mettere in campo la squadra da adesso insomma che è l'allenatore per adesso ragazzi che vedevo di dobbiamo superare questo momento noi pure dobbiamo stare vicino alla squadra e contestare ma allo stesso tempo in maniera sana dobbiamo cercare di rimanere ottimisti perché la stagione all'inizio ancora nulla è perduto dobbiamo sperare che Juric trovi veramente la bandola della matassa di questa squadra e la faccia dal massimo con i giocatori che ha e dobbiamo sempre comunque stare vicino alla squadra e ti fa la Roma ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate del video iscrivetevi al canale tanti like commentate e ci aggiorniamo a domani a domani e ci aggiorniamo